kylie jenner svela su instagram il nome della figlia con un post su instagram la più giovane delle sorelle kardashian jenner rivela al mondo come ha deciso di chiamare la neonata la giovane rampolla di casa kardashian classe 1997 è diventata mamma il primo febbraio di una bellissima bambina e ne ha dato l'annuncio via social ma senza rivelare come avesse deciso di chiamarla sì che i suoi fan hanno dovuto aspettare il 7 febbraio per scoprire le generalità della figlia della loro beniamina il parto è avvenuto presso il cedars sinai medical center di los angeles la bella kylie ha rivelato via instagram quale nome abbia scelto per la piccolina l'ultima arrivata della dinastia si chiama stormy il cognome è invece webster perché il padre è il rapper travis scott che all'anagrafe si chiama jack webster travi dollaro scott secondo la grafia che spesso appare è solo un nome d'arte peraltro l'artista ha adoperato per breve tempo anche lo pseudonimo la flamme la neo mamma è stata travolta dall'affetto e dalle congratulazioni di familiari amici subito dopo il parto ricevendo letteralmente montagne di fiori che celebravano il lietissimo nuovo evento